Il suo impatto all'interno della formazione agrupolese è stato davvero devastante. Parliamo di Luigi Canotto, attaccante esterno classe 94, arrivato nel mercato di riparazione dal sud Tirol. Due apparizioni e due superprestazioni. La prima con l'Agracas in trasferta, la seconda in casa contro la Leonfortese. È stato davvero fondamentale il suo apporto ai Delfini. Contro la formazione dell'Agracas si procurò il calcio di rigore che consentì alla formazione agrupolese di agguantare il pari. Siamo davvero un grande gruppo, spiega Canotto, e possiamo davvero raggiungere obiettivi importanti. Qui mi sono subito trovato bene. L'Agropoli, grazie alla vittoria di domenica, contro la Leonfortese ha riconquistato il terzo posto e sente la vetta più vicina. Anche in questo caso Canotto è stato autore di una splendida prestazione, coronata anche da una rete. Ma secondo lui non bisogna fare calcoli, perché bisogna pensare partita per partita. Se nel proseguo del campionato, dice ancora, affrontiamo le prossime gare come abbiamo fatto nel secondo tempo con l'Agracas e nelle gare di domenica contro la Leonfortese possiamo andare molto lontano. Il giovane bomber crede che la formazione agrupolese possa prodare il Lega Pro e vede tra le principali contendenti alla vittoria del campionato l'Agracas ed il Neapolis. Anche se non vuole mettere tra le indiziate a vincere il campionato il Torrecuso, perché non la vede così forte. Il merito di questa straordinaria stragione, conclude, è di mister Rigoli. Per aver formato un gruppo fantastico ci sprona sempre a fare meglio, sa qui da poco ed ha già cambiato il volto della nostra squadra.